bella regà qua è Savix che vi parla bentornato in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi ragazzi vi farò vedere come prendere il borsone verde ragazzi aperto e chiuso dovremmo aggiungere questa attività ragazzi tra i preferiti link in descrizione vedrò di portarle ragazzi per ps e xbox quindi a questo punto andiamo su last team standing ragazzi e avviamo questa una volta avviata questa attività non dovremmo fare niente di speciale dovremmo semplicemente avviare l'attività quindi ragazzi fate entrare un vostro amico perché bisogna startarla per forza in due e vi voglio dire che il primo quindi l'host prenderà il borsone chiuso il secondo prenderà il borsone aperto adesso raggiungo l'essietto così ve lo faccio vedere intanto ragazzi vi invito a seguire la nuova serie che sta uscendo ogni domenica sul canale link in descrizione infatti raga come state guardando lui c'ha quello aperto e io quello chiuso tra l'altro raga questo verde è veramente veramente bello quindi cosa dobbiamo fare per salvarci l'outfit semplicemente aprire il menu interazione andare su stile raga switchare le luci vestiario per 30 40 secondi una volta passati i 30 40 secondi ragazzi semplicemente apriamo il telefono e quittiamo l'attività con axa se giocate da xbox o x quadrato x se giocate da ps raga quindi a questo punto una volta che abbiamo quittato l'attività raga e siamo spawnati di nuovo online spawneremo in questa situazione con il borsone potrebbe capitare che vedete il borsone per un secondo e poi de spawna ragazzi vi compare il paracadute e cosa dovete fare aprire menu interazione diventare membri del ceo o dell mc raga e a quel punto andare sulla gestione date su stile e fate una volta a destra e una volta a sinistra e vi ricomparirà il borsone quindi a questo punto prendere un oppressor un buzzard un qualsiasi cosa un volivolo ragazzi in modo tale da avere poi il paracadute indossato a questo punto ci dirigiamo dal solito negozio di maschere e quando siamo arrivati a questo punto ci lanciamo dall'oppressor la buzzard che sia io consiglio l'oppressor apriamo subito il paracadute raga ci indirizziamo verso il negozio di maschere e dovremmo andare a sbattere in questo punto tra le magliette ragazzi e tra i cappelli a questo punto spammiamo freccia destra e sbada bam ci aprirà il menu salviamo l'outfit ragazzi dove vi pare e a questo punto una volta che avete salvato l'outfit uscite dal menu e vi andate a selezionare l'outfit e avrete l'outfit con il borsone quindi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete e alla prossima bella rega sbada bam ciao ciao Grazie per la visione!